Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove voglio trattare un argomento particolare dal punto di vista qua in Giappone, questo bello Yusori, la cittadinanza o l'ottenimento della cittadinanza per conto di uno straniero, come regolarmente da qua in Giappone, visto che in Italia se ne è parlato tanto in queste ultime due settimane, molte persone sono contrari, sono favorevoli, il governo si è spaccato, c'è chi la vuole votare se non la vuole più votare, chi vuole saperne di più, nella descrizione c'è il video del canale Breaking Italy che ha trattato molto bene l'argomento, più che saustiva dell'argomento, io l'ho fatto qualche ricerca e poi alla fine la si può trovare facilmente in internet, ma anche volendo anche in italiano, come funziona in Giappone la cittadinanza, per linea di massimo bisogna seguire le regole che io ho visto, vi dico adesso, per ottenere, già a partire al presupposto che in Giappone non esiste lo Yus Soli, ma esiste lo Yus Sanguinius, cioè vuol dire la cittadinanza in conseguenza per discendenza di sangue, per sangue, perché non è per luogo di nasce, non è che se uno nasce qua automaticamente, tac, la cittadinanza Giappone si viene data, non esiste, figuratevi che il visto matrimoniale non viene dato manco un matrimonio comune, cioè dovete fare un'applicazione a parte, perché non è che ti sposi, tac, tieni visto, qua in Giappone funziona così, qua in Giappone i prestanieri bisogna sempre mandare l'immigrazione e fare un'applicazione a parte, fare i documenti, portare tutto quello che loro ti chiedono e fare come loro ti chiedono, cioè la procedura è sempre la gente più complicata di quello che una persona può pensare. I tre requisiti che deve avere una persona per diventare cittadino alla nascita. Prima cosa, avere uno dei due genitori giapponesi, può diventare cittadino giapponese, morte di un genitore, del genitore giapponese, l'importante è che sia cittadino giapponese, cioè lui può essere bambino, padre di un giapponese che in quel momento non c'è più, lo può diventare perché il genitore giapponese. La terza è perché i genitori sono apoliti, scusatemi se la pronuncia è sbagliata, con le persone che sono prive di una cittadinanza all'origine e possono acquisire quello giapponese. Bisogna avere questi tre requisiti alla nascita, poi si passa alla naturalizzazione, cioè si può diventare giapponesi se si sceglie di fare un procedimento. Articolo 4 del decreto della nazionalità prevede che bisogna essere residenti in suolo giapponese per 5 o più anni, avere almeno 20 anni di età o idoneità legale, avere una condotta buona, non avere precedenti penali, giorni di carcere, niente del genere, seppellini indepindi, pulitissimi, e avere un'indipendenza economica, un capitale sufficiente che vi permette di vivere qua in Giappone. Ho la scelta personale di rinunciare alla propria cittadinanza. Io se voglio fare la brand di passaporto e voglio naturalizzarmi giapponesi, devo rinunciare al passaporto italiano. O se sono soggetto a Polidia, cioè la mancanza della cittadinanza all'origine, posso soffrire di quella giapponese, perché non ne ho una mia, automaticamente non devo rinunciare a niente, ma voglio acquisire quella giapponese. La mia domanda è, visto che alcuni ho letto pure su alcuni social, c'è questo desiderio di avere il passaporto giapponese. Io mi chiedo cosa ve ne fate del passaporto giapponese. C'è qualche rispondo? Nei commento a questo video mi date una motivazione per chi di voi guarda questo video e desidera avere il passaporto giapponese. Io personalmente no, grazie, mi ritengo quello italiano e sono felice lo stesso. Perdita della cittadinanza giapponese richiede l'approvazione del ministro della giustizia. Una conseguenza è, questo è un po' particolare, perché va a indaccare alcuni paesi che hanno delle particularità, tipo l'Iran, fino a 25 anni un iraniano non può rinunciare alla cittadinanza iraniana e questo diventa un conflitto con la legge giapponese, perché a 22 anni si chiede la dichiarazione di scelte di quale cittadinanza si vuole. In Giappone funziona così. Io ho un figlio, mio figlio ottiene tutte e due le cittadinanze alla nascita, registrandolo ovviamente, bisogna registrarlo a comune, se non si registra e entro un tot di tempo perde quel diritto. Questo è un errore che fanno anche molti stranieri, soprattutto di origine indiana, che non si preoccupano di queste procedure, poi succede, loro perdono il visto, il figlio è cresciuto qua per 10-15 anni, ma il governo non lo riconosce, non gli riconosce niente e gli rimanda, cioè gli fa il foglio di via che se ne viene avuto in Europa. È successo un caso a dicembre e gennaio, tra cavallo a dicembre e gennaio, un ragazzo indiano che non è mai vissuto in India prima, non è sempre cresciuto qua in Giappone, non ha la minima idea di come funziona la vita in India, ma il governo gli ha dato il foglio di via, se ne deve andare, perché la famiglia, la madre ha perso il visto per rimanere in Giappone, lui non è stato registrato, non è stato fatto nessuna domanda prima, comunque lui si è trovato a tornare in India in una realtà la quale non è la sua. Loro gli dicono che entro 3-2 anni si è obbligato, mio figlio è obbligato a far scegliere quale passaporto deve tenere, rinunciare automaticamente da là. Se non lo fa, il governo prima o poi vede che manca la domanda, e poi non possono passare 3 mesi, possono passare anni, ma prima o poi manderà una lettera nella quale gli chiederà entro un mese di scegliere quale delle due passaporti tenere, quale delle due non viene data risposta, automaticamente la scelta è stata fatta e il governo toglie la cittadinanza giapponese. Le eccezioni possono essere una donna giapponese che si sposa un coreano, ottiene in automatico la cittadinanza coreana, ma non perde quella giapponese, perché l'acquisizione è stata involontaria, perciò non perde quella giapponese. La stessa cosa succede quando una donna giapponese si sposa un iraniano, l'acquisizione della cittadinanza iraniana è una questione di conseguenza, perciò non è una cosa voluta e non è una scelta, ma sono le regole dell'altro paese, quale automaticamente gli viene data questa linea di massima, cioè non vado poi a trattare discorsi che possono essere di paesi che israeli ha, israeli ha, queste cose qua, cioè io parlo, il mio canale è italiano, perciò io vi dico da italiano quello che uno deve fare, mio figlio acquisisce la cittadinanza perché mia moglie è giapponese e avrà doppio passaporto entro 22 anni. Sulla registrazione del passaporto italiano posso dare il cognome a mio figlio e automaticamente che succede? Se su quello giapponese acquisisce quello di mia moglie, lui avrà un passaporto giapponese con nome giapponese e cognome di mia moglie e può avere un passaporto italiano con nome mio e cognome della mia famiglia, cioè come se una sola persona ha due identità totalmente diverse. non è concesso dare doppio nome, di avere un nome solo. Io, questo è una parentesi che apro personalmente, l'ho già detto in un altro video, è una questione di che destino li puoi dare in una realtà quale qua in giappone non sono ancora proprio, proprio, proprio aperti mentalmente al discorso. Io sto pensando che è un discorso del cognome, probabilmente mio figlio non avrà il mio cognome per una questione di possibilità, perché si vivrà qua in giappone, forse avrà meno possibilità, uno dice, le cose possono cambiare, però siamo nella realtà quella che vedo, però questo è il paese in cui io vivo e giappone qua è anche questo. Oltre a tokyo tutte le luci e tutte quelle cose belle che una persona pensa, in giappone c'è un sacco di problematiche, è molto nazionalista, la via del cambiamento è londana. Voi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Pace, amore, ragazzi, e al prossimo video del Giappone, mi raccomando, fate sempre i bravi. iscriviti al canale. iscriviti al canale. iscriviti al canale.